Buongiorno a tutti, grazie di essere qua così numerosi. Oggi parleremo di strategie riproduttive di anfibi e rettili. Vi ripresento una cosa che Andrea Pilastro ha appena fatto vedere e che rassegnatevi vedrete parecchie altre volte, credo, nelle presentazioni di questi giorni. Il concetto è che Darwin individuò due motori principali per l'evoluzione che sono la selezione naturale per cui alcuni caratteri nuovi che compaiono nelle popolazioni possono risultare a un certo punto vantaggiosi, mentre erano svantaggiosi magari fino a un certo tempo prima e questo può portare all'evoluzione di nuove forme, colori, strutture eccetera che danno dei vantaggi adattativi ai singoli individui. Questo è il classico caso della biston betularia, questa farfalla bianca che si mimetizzava perfettamente sul tronco delle betulle quando le betulle erano bianche, nel momento in cui ci sono stati dei casi di inquinamento molto intenso e la fuligine ha fatto diventare nere le cortecce di alcuni alberi a quel punto gli individui neri che prima erano rari e che venivano selezionati immediatamente sono diventati avvantaggiati perché diventavano più mimetici rispetto alle bianche che a quel punto venivano selezionati. Il secondo motore evolutivo è appunto la selezione sessuale per cui abbiamo due strategie differenti diciamo una che comporta la competizione tra maschi e quindi l'evoluzione di comportamenti, strutture che permettono ai maschi di essere più forti degli altri, di lottare con gli altri e di vincere il conflitto per poter avere accesso alle femmine e una invece la scelta femminile per cui le femmine scelgono qual è il maschio migliore per loro per poter avere figli. Questo tipo di strategie, queste due strategie sono ampiamente rappresentate anche negli anfibi e nei rettili, oggi ne vedremo alcune espressioni. Queste strategie possono essere, scusate, alcuni di questi caratteri che compaiono nelle popolazioni, possono essere anche a carattere stagionale ad esempio alcuni caratteri sessuali secondari pensiamo ad esempio a un ramarro che è completamente verde ma la cui gola diventa blu cobalto nel momento in cui arriva al periodo della riproduzione e ritorna a essere verde nel momento in cui la riproduzione finisce e ci possono essere anche dei caratteri che compaiono repentinamente all'occorrenza ad esempio questo sferodactile è un parente dei gechi sudamericano i maschi si presentano come quello che vedete in fotografia con una colorazione del corpo abbastanza anonima mimetica sicuramente per una vita arboricola ma nel momento in cui un maschio si trova a fronteggiare un altro maschio della stessa specie nel giro di pochi secondi assume colorazioni molto vivaci che servono ovviamente come deterrente nei confronti dell'avversario che si trovano di fronte facciamo un passo indietro di qualche milione di anni e andiamo a vedere qual è stata la grande novità evolutiva di questi due gruppi di vertebrati, gli anfibi e i rettili diciamo che il cambiamento fondamentale è che si sono affrancati in parte o del tutto dalla vita acquatica gli anfibi sono riusciti a uscire dall'acqua per un certo periodo della loro vita diciamo la vita adulta e sono riusciti ad andare a colonizzare degli ambienti nuovi di solito abbastanza vicini alle zone umide sia perché la loro pelle non è in grado di trattenere l'acqua per più di tanto tempo e quindi hanno bisogno ogni tanto di reidratarsi e soprattutto perché hanno bisogno di tornare all'acqua per riprodursi le uova infatti vengono deposte negli stagni, nei fiumi, nei torrenti, ecc. nelle pozzanghere sono di solito degli ammassi globulari gelatinosi o dei cordoni gelatinosi da cui schiude una larva che è completamente diversa dall'adulto e che va incontro a un processo di crescita e successivamente alla metamorfosi come ben sappiamo i rettili hanno fatto il passo successivo cioè sono riusciti ad affrancarsi completamente dalla vita acquatica e sono riusciti ad andare a colonizzare degli ambienti anche molto aridi in alcuni casi grazie al fatto che sono riusciti a deporre delle uova munite di un guscio calcareo che sostanzialmente ricrea un ambiente umido, acquatico fuori dall'acqua questo permette lo sviluppo dell'embrione e permette il fatto anche di non avere uno stadio larvale ma di avere dei piccoli che sono sostanzialmente delle coppie in miniatura degli adulti ora questi cambiamenti ambientali ovviamente hanno portato anche all'evoluzione di nuove strategie sessuali e riproduttive per potersi adattare a diverse condizioni che di volta in volta si incontravano ora la prima cosa in sostanza che un anfibio o un rettile devono fare per potersi riprodurre è trovare un partner questa cosa viene attuata in diversi modi diciamo che il sistema più primitivo è quello di affidarsi a una ricerca casuale ci sono alcuni urodeli cioè salamandre, tritoni, eccetera che cercano il partner a vista pattugliando esplorando il territorio che frequentano normalmente eventualmente eventualmente possono essere utilizzati anche dei segnali chimici di cui ci parlerà successivamente Roberto Sacchi in maniera più approfondita e questi segnali chimici servono per poter dare una direzione al maschio per andare a cercare la femmina o viceversa in alcuni casi questo punto che vi ho detto riguarda soprattutto gli anfibi più primitivi anfibi un po' più evoluti come gli anuri cioè le rane, i rospi, le raganelle hanno evoluto dei sistemi diversi per poter trovare il partner in particolare le vocalizzazioni sono riusciti ad ottenere dei sacchi vocali che possono essere o singoli come nel caso di questa raganella o doppi come nel caso di questa rana sono delle sacche membranose che vengono riempite di aria e quando l'aria esce producono un canto la cosa interessante è che il canto delle rane, delle raganelle, eccetera è unico ogni specie al suo esattamente come succede per gli uccelli per cui è possibile riconoscere anche se viene dal canto le specie che ci sono in uno stagno e questo soprattutto evita la confusione al momento della riproduzione quando magari uno stagno può essere molto affollato con più specie contemporaneamente in acqua per quanto riguarda i rettili la ricerca del partner avviene anche in questo caso soprattutto a vista e mediante segnali chimici le tartarughe ad esempio cercano soprattutto a vista il proprio partner spostandosi in continuazione e individuandolo i serpenti fanno lo stesso anche se in realtà ci sono testimonianze di molte specie che utilizzano appunto dei segnali chimici lasciati sul terreno dalle femmine quando passano ad esempio questa specie che vedete di serpente questo è il biacco il serpente più comune in Italia qualche anno fa con alcuni collaboratori abbiamo fatto una ricerca di radio tracking cioè montando delle piccole trasmittenti sul dorso di questi serpenti e abbiamo analizzato i loro spostamenti avevamo contemporaneamente alcuni maschi e alcune femmine radiomarcati avevamo tre maschi che giravano tutti più o meno nella stessa zona a un certo punto è passata di lì una delle nostre femmine radiomarcate e si vede nei giorni successivi immediatamente da movimenti casuali che avvenivano in quella zona la femmina si è spostata in un'altra area tutti e tre i maschi immediatamente sono andati in quella direzione ci sono poi alcune specie che sono diciamo usano delle strategie opportunistiche quello che vedete qui è il varano di comodo il più grande sauro esistente tre metri e mezzo grosso modo il più grosso predattore dell'isola di comodo questi animali sono solitari come la stragrande maggioranza dei rettili esistenti però si creano degli assembramenti temporanei quando viene catturata una preda o quando viene trovata una carcassa di qualche animale a quel punto molti varani di comodo vanno a mangiare contemporaneamente sulla stessa preda e quello che succede è che i maschi approfittano del fatto che ci siano lì anche le femmine per cominciare a corteggiarle cercando di accoppiarsi per quanto riguarda i sauri vengono utilizzati diversi sistemi anche in questo caso per trovare il partner che possono essere ancora una volta la vista i segnali chimici eccetera ma soprattutto vengono utilizzati da alcune specie dei segnali visivi estremamente proprio eclatanti come ad esempio le giogaie che vedete in queste lucertole queste vengono tenute normalmente chiuse ma c'è un osso lo ioide che può essere mosso in modo da aprire questa specie di ventaglio colorato che per animali che vivono spesso ad esempio nelle foreste tropicali sugli alberi eccetera dove bisogna essere mimetici per evitare i predatori e infatti le colorazioni del corpo spesso volentieri sono verdi marroni eccetera ma bisogna a un certo punto farsi vedere perché o arriva un contendente un altro maschio ad esempio o arriva una femmina con cui ci si può accoppiare a quel punto questi segnali vengono manifestati immediatamente lo stesso fanno ad esempio queste lucertole che sono i draghi volanti ce ne sono altri che invece non usano segnali di questo genere usano segnali chimici e inoltre avendo un comportamento territoriale cioè avendo una piccola zona di territorio che loro proteggono dagli antagonisti aspettano che le femmine arrivino nel loro territorio e dopodiché difendono le femmine come se fossero appunto una risorsa anche alimentare o un rifugio eccetera diventano in un certo senso loro proprietà e cercano di accoppiarsi solo loro con queste femmine cacciando via gli altri maschi la fedeltà negli alfibi nei rettili non è proprio una delle doti migliori diciamo che l'accoppiamento avviene non dico casualmente ma comunque ogni volta con partner differenti ci sono però pochissimi casi di fedeltà coniugale diciamo il più famoso è quello di questo sauro australiano nagamide tiliqua rugosa è la lucertola della lingua blu che è quella che viene stroflessa qua in segno di minaccia nei confronti dei predatori questa lucertola è molto longeva è molto sedentaria sta più o meno sempre negli stessi posti e si è visto che tutti gli anni pur essendo animali solitari tutti gli anni però si formano sempre le stesse coppie hanno dimostrato fino a dieci anni di vita poi muoiono le lucertole di solito e questo è un caso appunto veramente quasi unico fra i rettili in realtà poi studi recenti che sono andati ad analizzare geneticamente la paternità dei piccoli dei neonati hanno dimostrato che questa fedeltà non è proprio assoluta in realtà i maschi cercano anche di accoppiarsi con altre femmine che sono nei dintorni a discapito della propria compagna ora come avviene l'associazione tra partner ci sono sostanzialmente quattro meccanismi fondamentali il primo è la competizione tra maschi abbiamo detto i maschi lottano fra di loro e cercano di avere la meglio per avere accesso alle femmine poi ci sono scelte consensuali diciamo maschi e femmine con qualità simili che cercano di diciamo che si accoppiano per poter avere figli poi c'è la scelta femminile la scelta femminile è quando le femmine sono loro appunto a decidere chi deve essere il proprio partner e normalmente vanno a scegliere gli individui maschi più grandi più prestanti infine c'è la scelta maschile scelta maschile che è invece il contrario della scelta femminile quindi sono i maschi che scelgono e tendono anche in questo caso a privilegiare femmine grandi e che danno maggiori garanzie di essere prolifiche allora una volta trovato il partner bisogna corteggiarlo bisogna cercare di convincerlo ad accoppiarsi questa cosa avviene in diversi modi fra fra gli infibirettili diciamo che fra i i tritoni normalmente si assiste a delle danze piuttosto complesse con i maschi che inseguono le femmine le toccano con la punta del muso gli tagliano spesso la strada come succede ad esempio qui perché in questo modo le obbligano a fermarsi e al tempo stesso agitando la coda come sta facendo questo tritone alpestre spingono dei feromoni prodotti da loro verso il muso della femmina per stimolarla all'accoppiamento inoltre mettendosi di fianco davanti a loro mettono in mostra alcune caratteristiche fisiche alcuni caratteri sessuali secondari come le creste i colori molto accesi che vengono sviluppati nei periodi produttivi e così via questo è un esempio abbastanza tipico proprio di questi comportamenti questo caudato questo tritone americano si durante il corteggiamento il maschio dopo aver fatto appunto la sua danza eccetera afferra con le zampe posteriori il collo della femmina si mette in questa posizione arcuata e strofina al lato del suo muso della sua testa sul muso della femmina perché ai lati della testa ci sono delle ghiandole che producono delle sostanze appunto eccitanti per la femmina e in questo modo la convince ad accoppiarsi per quanto riguarda i serpenti il corteggiamento avviene mediante danze rituali anche in questo caso come nel caso dei cobra che vedete qui sopra e spesso con inseguimenti da parte dei maschi nei confronti delle femmine e in molte specie si osserva anche questo comportamento cioè il maschio si mette a fianco alla femmina o sopra la femmina e appoggia la testa la sua testa sopra la testa della femmina in questo modo strofina il mento sopra la nuca della femmina e stimola la produzione di sostanze prodotte da delle ghiandole mentoniere che anche in questo caso servono ad eccitare la femmina per i sauri cioè le lucertole la cosa diciamo è un po' più grezza i maschi di solito rincorrono le femmine o gli si avvicinano pian piano poi a un certo punto le afferrano le mordono e cercano di convincere ad accoppiarsi con loro sempre che queste non reagiscano mordendo a loro volta il problema per alcune specie che sono quelle chiamate riproduttori esplosivi cioè quelle che si riproducono tutti insieme in un periodo di tempo relativamente breve e magari in aree relativamente ristrette si furono quindi degli ammassamenti come quelli che vedete qua di queste rane questa cosa è tipica soprattutto delle specie che vivono in ambienti temperati dove c'è una forte stagionalità una stagione fredda una stagione calda in cui gli animali si riproducono mentre d'inverno hanno di solito un periodo di latenza nelle zone tropicali queste cose si vedono molto meno comunque quando ci sono questi riproduttori esplosivi succede che appunto in uno stagno come in questo caso arrivino centinaia o migliaia di individui a riprodursi molto spesso queste specie hanno dei rapporti sessi estremamente sbilanciati cioè ci sono molti più maschi di solito rispetto alle femmine possono esserci anche dieci maschi per femmina per intendersi e questo comporta ovviamente un po' di problemi intanto delle lotte tra maschi però anche una selezione molto forte sia legata alla taglia dei maschi che possono essere appunto più forti a scacciare gli altri individui ma anche ad esempio sulla qualità del canto potrebbe essere e normalmente le femmine vengono attratte dal canto dei maschi arrivano di solito dopo i maschi e lì avvengono gli accoppiamenti ci sono in realtà delle specie dove qualche individuo fa il furbo e quindi ad esempio nel rospo comune che è quello che vedete nelle fotografie qua alcuni individui invece di restare semplicemente in acqua e cantare vanno in giro per il bosco cercano una femmina a terra si mettono già in posizione di accoppiamento come vedete qua sopra e restano in quella posizione facendosi portare in acqua direttamente dalla femmina in questo modo sono avvantaggiati al momento dell'accoppiamento perché gli altri maschi fanno più fatica a scalzarlo da quella posizione il problema è che quando c'è questo affollamento e così poche femmine soprattutto i maschi tendono poi a cercare di accoppiarsi in tanti con la stessa femmina causandone spesso l'aborto e ci sono molti casi di annegamento delle femmine proprio per questo motivo e in più nella confusione nell'eccitazione perché comunque il testosterone dà la testa ci sono casi come questo ad esempio dove un maschio di rana temporaria che sono quelle rane che avete visto nella foto precedente cerca di accoppiarsi con un rospo oppure addirittura un maschio di rospo che cerca di accoppiarsi con una femmina morta annegata in realtà i rospi cercano di accoppiarsi un po' con tutto quello che si muove addirittura gli stivali anche dei ricercatori spesso ora vi faccio vedere un breve filmato che vi illustra proprio una situazione molto particolare di questa specie che è la rana di la tasta è una piccola rana bruna che vive nei boschi della pianura padana del canto anticino e di una piccola parte della Slovenia è un endemismo proprio della pianura padana e anche questo anfibio forma questi raggruppamenti questo filmato mi è stato concesso da un collega svizzero Kurt Grossenbacher che ha filmato appunto una scena molto particolare qui c'è una coppia appena formata di rana di lataste maschio e femmina ok con altri maschi intorno dei maschi satelliti che stanno cercando di scacciare via il maschio che è già in copula per ottenere accesso alla femmina ora guardate quello che succede praticamente loro fanno molti tentativi a un certo punto a un certo punto un maschio particolarmente insistente andrà a sbattere contro la coppia infastidendola e la coppia e la coppia a un certo punto si scioglie si allontana da lì l'ammasso di uova è stato già depositato ecco ricordatevi che negli anfibi la la deposizione è cioè la fecondazione è esterna cioè queste uova non erano ancora fecondate il maschio che stava accoppiando si stava cercando di fecondarle questi sono riusciti a cacciarlo via e adesso cercano di accoppiarsi direttamente con l'ammasso di uova una certa percentuale di uova probabilmente riusciranno a fecondarlo e si garantiranno in questo modo un minimo di successo riproduttivo questa cosa è stata testimoniata non molte volte ma succede in alcune specie sì ovviamente la posizione non è comoda perché perfetto andiamo avanti allora questi ammassamenti di individui non avvengono solo tra gli anfibi succedono anche tra i rettili in alcuni casi in particolare c'è un caso famosissimo che è quello dei serpenti giarrettiera del nord america del genere tamnofis in particolare che sono questi serpenti molto simili alle nostre bisce d'acqua le nostre natrici sono strettamente imparentati questi serpenti vivono in alcune specie vivono in ambienti relativamente freddi con una stagione invernale molto lunga e devono ovviamente trovare un ibernacolo cioè un posto dove svernare visto che le condizioni climatiche lì sono molto selettive molto rigide molti individui vanno a svernare nello stesso ibernacolo a volte centinaia o migliaia di individui che escono tutti contemporaneamente non appena arriva la primavera questa cosa dà due vantaggi uno termico perché dentro l'ibernacolo tanti corpi producono calore e quindi rendono l'ibernacolo più vivibile per i serpenti che ci sono dentro il secondo vantaggio è che avendo una stagione riproduttiva relativamente breve non c'è da fare tutto quello che abbiamo detto prima tutti i preliminari di cui abbiamo parlato la ricerca del partner il corteggiamento eccetera perché questi escono e si ritrovano in questa situazione centinaia e centinaia di serpenti ammassati questi sono veramente famosi dato che sono tratto dei serpenti innocui sono i bambini che vanno a giocare con i serpenti ogni tanto in queste zone e quelle più grandi che vedete sono le femmine quelli più piccoli maschi e praticamente lì c'è una competizione tra individui per cercare di tra maschi per cercare di avere accesso alle femmine che possono in parte selezionare ma probabilmente in parte no perché in tutta quella confusione non so quanto riescano a impedire ai maschi di accoppiarsi però sta di fatto che succede che i maschi diciamo più forti migliori riescono a accoppiarsi per primi e una volta terminato l'accoppiamento nell'ultima fase emettono una sostanza gelatinosa che va a formare una specie di tappo nella cloaca della femmina questo per impedire ad altri maschi di accoppiarsi con la stessa femmina questo tappo dura due tre quattro giorni dopodiché si scioglie ma in realtà non è un sistema che funziona alla perfezione anche perché le femmine hanno adottato una contromisura cioè hanno sviluppato delle sostanze che tendono a sciogliere questo tappo in modo da permettere l'accoppiamento con altri non per puro divertimento ma perché in realtà il fatto di avere accoppiamenti multipli garantisce anche quello di cui ci parlava prima della pilastro cioè una competizione spermatica per cui se io mi accoppio con più maschi solo gli spermatozoi dei maschi migliori riusciranno a fecondare le mie uova ci sono poi dei casi pochi in cui si hanno sia il caso opposto cioè troppe femmine e pochi maschi queste lucertole che vedete nelle fotografie sono delle lucertole delle montagne del caucaso che si sono trovate molto probabilmente nel corso della loro storia a un certo punto isolate probabilmente durante i grandi periodi glaciali e in alcuni casi ci sono state delle popolazioni in cui c'erano pochi maschi e troppe femmine il risultato è stato l'evoluzione di un sistema di riproduzione particolare che è la partenogenesi di cui ci parlerà sicuramente molto Diego dopo per cui una femmina riesce ad autofecondarsi e adesso esistono diverse specie del genere Derevskia alcune sono partenogenetiche obbligatorie alcune facoltative e altre invece si riproducono per riproduzione sessuata normale da notare che esiste addirittura nel caso di partenogenesi anche nel drago di Komodo che vi dicevo è una lucertura molto molto grande la territorialità molte specie sono territoriali cioè hanno una piccola zona di territorio piccolo o grande dipende dalla specie delle dimensioni della specie che difendono attivamente degli altri maschi soprattutto in periodo riproduttivo ovviamente queste due salamandre nordamericane sono entrambi territoriali scacciano i competitori durante il periodo riproduttivo e addirittura questa specie in alto ambistoma maculatum usa una strategia particolare dopo vi parlerò rapidamente delle spermatofore sono delle piccole capsule che contengono gli spermatozoi che vengono deposte sul terreno o sul substrato anche in acqua i maschi di questa specie vanno a deporre le spermatofore in giro nell'ambiente ma soprattutto se trovano una spermatofera di un altro maschio ci depongono la propria sopra in modo da assicurarsi comunque che venga scelta quella e non quella del rivale e un caso molto eclatante di territorialità è quello di questa rana enorme la rana toro africana per avere idea delle dimensioni vedete questo è un cucciolo di gazzella un animale che arriva a pesare circa un chilo e mezzo per circa 25 cm di lunghezza del corpo questa specie ha maschi più grandi rispetto alle femmine stranamente perché di solito sono le femmine che sono un po' più grandi negli anuri e i maschi si radunano nelle pozze che si formano durante la stagione delle piogge nelle savane africane e in questo caso i maschi più grandi tendono a occupare le porzioni centrali delle pozze non a caso ma sono quelle dove c'è maggiore profondità e quindi maggiore sicurezza che le uova arrivino a sviluppo e i maschi più grandi cacciano via allontanano gli altri maschi e sono quelli che riescono a copiarsi con maggiore frequenza fra i lucertoli ci sono molti casi di territorialità e di lotta fra individui in alcuni casi sono ritualizzati adesso cerco di andare un po' più veloce perché vedo che siamo in ritardo sono ritualizzati come nel caso dei varani che fanno queste prove di forza sollevandosi e spingendosi verso il terreno senza accorgersi di niente di quello che succede intorno addirittura ho visto dei filmati in alcune città indiane di varani che lottano per strada in mezzo alle macchine in altri casi ci sono dei combattimenti un po' più cruenti con morsi ribaltamenti come in questo caso ma di solito non sono comunque combattimenti che portano a danni permanenti o alla morte c'è una cosa particolare che viene fatta da alcune specie cioè il mate guarding cioè la difesa del proprio partner dopo l'accoppiamento per essere sicuri che questa non si accoppi con qualcun altro un caso famoso di una specie che usa questa strategia è quella di questa lucerto la nordamericana utastansburiana che in realtà però non usa solo questa strategia ne usa ben tre esistono tre colori fondamentali della gola di questa specie arancio blu e giallo che sono associati a tre strategie riproduttive alternative gli arancioni sono dei territoriali quindi difendono il proprio territorio e non permettono agli altri di entrare i mate guarders appunto quelli che hanno una sola compagna a territori più piccoli che difendono attivamente dagli altri maschi e gli sneakers cioè gli individui che non hanno un territorio proprio ma cercano di intrufolarsi nei territori altrui per accoppiarsi con le femmine degli altri questa cosa porta a una strategia a un gioco diciamo a tre in cui nessuno dei tre prevale perché il territoriale riesce a scacciare i mate guarders ma gli sneakers riescono ad entrare nel suo territorio a sua volta il mate guarder stato sempre vicino a una femmina non permette agli sneakers di avvicinarsi alla propria femmina e questo crea un equilibrio per cui il numero degli individui fluttua negli anni ma una strategia di solito non scompare questa cosa che è stata scoperta in questa specie americana nordamericana in realtà poi è stata vista esiste anche in altre specie in particolare da ormai una dozzina di anni con Roberto Sacchi che parlerà dopo e con altri colleghi stiamo studiando proprio questo fenomeno del polimorfismo cromatico nel lucerto e nel muraione che si comportano più o meno nello stesso modo sappiamo che i gialli sono dei territoriali hanno più testosterone sono immunodepressi hanno comportamento di homing cioè se gli sposti ritornano al proprio territorio gli altri no i rossi probabilmente sono i mate guarders i bianchi dovrebbero essere gli sneakers da quanto abbiamo capito finora ma ci stiamo lavorando ormai appunto da tanti anni e ancora molte cose sono da capire allora una volta fatto tutto questo abbiamo trovato il partner abbiamo corteggiato eccetera 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 ci dobbiamo accoppiare ok come si fa la posizione tipica delle rane in accoppiamento è quella che vedete qui il maschio sopra di solito più piccolo che stringe la femmina grazie al fatto che ha degli avambracci molto muscolosi stile braccio di ferro e soprattutto grazie al fatto che ha queste escrescenze che si sviluppano nel periodo riproduttivo che sono dei cuscinetti nuziali ruvidi che servono a aumentare la presa sulla femmina durante l'accoppiamento perché altrimenti scivolerebbero via questa è la posizione tipica in realtà ci sono poi molte varianti con appunto presa ascellare come quella di prima presa inguinare che è tipica di specie abbastanza primitive a cavalcioni insomma in groppa cefalica cioè spostato più verso la testa addirittura con giusta posizione delle cloache in alcuni dendrobatidi e poi quello che vedete là sopra adesso vi faccio vedere una cosa queste sono delle rane strane del genere breviceps che hanno una forma molto particolare sono delle specie fossorie sono sostanzialmente delle sfere con delle zampe cortissime ovviamente per un animale di questo genere è difficilissimo assumere una posizione di accoppiamento come quella delle specie che abbiamo visto prima e quindi questi hanno evoluto delle ghiandole adesive sul petto che permettono al maschio di incollarsi letteralmente alla femmina ed essere trascinato in giro durante tutto il periodo dell'accoppiamento e c'è un caso tra l'altro particolare sempre tra gli anfibi vi ho detto che la fecondazione è esterna normalmente negli anfibi ma in realtà questa rana nordamericana ha un finto pene cioè questa estroflessione della cloaca viene inserita nella cloaca della femmina per avere una fecondazione interna ed è l'unico caso tra gli anuri le salamandre invece utilizzano soprattutto un sistema di accoppiamento alcune vabbè mettono le cloache a contatto eccetera ma la maggior parte depone i maschi depongono delle spermatofore come vi dicevo queste capsule piene di spermatozoi e convincono la femmina a passare sopra la la spermatofora e inglobarla nella loro cloaca viene inserita in un organo che si chiama spermateca e da lì poi si liberano gli spermatozoi per la fecondazione le lucertole hanno un accoppiamento tipo quello che vedete qui di solito si mettono sopra i maschi o di lato e estroflettono i propri organi copulatori e si accoppiano in questo modo a volte con qualche difficoltà a causa della forma come nel caso di questi frenosomi nordamericani però in realtà in alcuni casi il combattimento cioè scusate l'accoppiamento è un po' più complesso come vedete assumono delle posizioni un po' strane e in alcuni casi è anche abbastanza cruento con morsi da parte dei maschi nei confronti delle femmine per tenerle ferme durante l'accoppiamento e sembra nel caso ad esempio di questi morsi sui fianchi anche per stimolare l'ovulazione questi morsi sono forti non è una cosa solo di così diciamo di forma perché queste sono le cicatrici che vengono lasciate dai maschi sulle femmine questi segni sono molto importanti perché studia le lucertole perché riesce a capire se quella femmina si è accoppiata quell'anno perché poi resistono per qualche mese per quanto riguarda coccodrille e tartarughe vabbè l'accoppiamento è più o meno standard il maschio sta sopra la femmina sta sotto in alcuni casi con degli abbassamenti anche qui e nelle tartarughe la cosa si complica per il fatto del carapace ho finito perché ovviamente questa corazza limita molti movimenti e quindi i maschi hanno evoluto un piastrone cioè la parte sotto della corazza concava in modo da potersi appoggiare alle femmine senza rischiare di ribaltarsi i serpenti invece fanno questo cioè si attorcigliano strettamente maschi e femmine e vanno anche magari in giro in questo modo senza accorgersi di niente di quello che gli succede intorno e gli accoppiamenti possono durare anche molti minuti e però come sono fatti gli organi copulatori dei serpenti o della lucertola ecco questo è un esempio intanto non ce ne è uno ma ce ne sono due in realtà è un organo bifido con un'unica base e due due organi copulatori appunto si chiamano emipeni muniti di spine che sono quelle che si vedono sporgere spine silice piuttosto dure questo è il solco spermatico da cui appunto colano gli spermatozoi e non solo in alcune specie addirittura come nel caso delle vipere sono quattro cioè abbiamo due una prima biforcazione da cui partono altre due biforcazioni solo uno in realtà viene inserito nella cloaca della femmina e io ho scritto destra e romancini perché? perché in realtà si è visto che in alcune specie c'è una preferenza per il lato destro o il lato sinistro cioè si accoppiano sempre da quel lato lì la forma degli emipeni è variabile a seconda delle specie le dimensioni anche e sono anche un carattere diagnostico da un punto di vista sistematico per riconoscere le varie specie io ho finito vi ringrazio grazie